Il 25 aprile è una data che il popolo italiano ricorda come l'inizio della nostra giovane repubblica. Limitare però ad un singolo giorno la memoria dei fatti accaduti sul nostro territorio nazionale è un errore storico ma soprattutto culturale. Conoscere il percorso che portò alla guerra di liberazione e di primaria importanza per le giovani e future generazioni. I fatti che portarono alla guerra fraticida che sconvolse il nostro paese, rinnegando antichi legami familiari e sincere amicizie, devono essere ora più che mai di monito per il futuro.